A Modena ha inaugurato la prima palestra digitale della città. Cos'è una palestra digitale? È il luogo in cui allenarsi con la tecnologia, l'elettronica e l'informatica. Un luogo in cui puoi sperimentare la stampante 3D, imparare a utilizzare Arduino, costruire prototipi, fare esercizio con i programmi open source, sviluppare idee insieme. Ma non solo. Puoi conoscere le opportunità del web per il lavoro e il tempo libero, imparare a usare Facebook, Twitter e tutti gli altri social network. Cerchiamo persone curiose per far crescere una bella comunità. Cerchiamo associazioni che condividano con noi progetti ed attività. Inizia l'allenamento digitale in città! Grazie a tutti!